Il manifesto uscire dall'ombra della depressione è stato presentato per la prima volta alla sala stampa della Camera dei Deputati lo scorso mese di aprile. Adesso si sta facendo un tour sostanzialmente per tutte le regioni italiane. La risposta del Parlamento a questo problema, soprattutto della depressione maggiore, è stata, proprio prendendo spunto dal manifesto, la presentazione di una mozione che mi auguro verrà presto discussa alla Camera dei Deputati.